Un sofisticato antipasto a base di carote e formaggio piemontese. Raccolta degli ingredienti. Carote, formaggio piemontese, uova, farina, latte, burro, noce moscata. Mescola farina e uova. Poi aggiungi lentamente il latte fino ad ottenere un impasto liscio. Utilizza burro per cuocere le crepe in una padella antiaderente. Grattugia le carote e mescola con il formaggio piemontese grattugiato e un pizzico di noce moscata. Riempi le crepe con il mix di carote e formaggio. Arrotola e servi caldo.